Nuovo aggiornamento settimanale di GTA V Online, valido dal 18 di aprile al 25 di aprile. Questa, ragazzi, forse è una delle migliori settimane, quindi vi invito a vedere tutto il video. Il veicolo appaio al casino questa settimana la Cucuette è di 10, mentre per i veicoli in esposizione al concessionario di lusso abbiamo l'Impaler LX e l'Asterop GZ, mentre per la corsa a premio abbiamo la JB700W, top 4 in gare Los Santos Carmit, 4 giorni di fila. E nello showroom di Simon troviamo l'Imorgon, la Raiden, la Voltic, la Curors e l'Omnis e GT. E per finire i veicoli bersaglio da rubare disponibili presso l'animozione abbiamo la Camacho, la Cypher e la Furia. Soldi doppi ed RP quadrupli sulle missioni in contatto di Lamar, Love Riders inclusi. Mentre abbiamo soldi ed RP doppi sui viaggi brevi, vendita di erba ai rivenditori di strada, le missioni di vendita di tutti i business del MotorSaber Club, missioni di rifornimento del bar del MotorSaber Club, lavori, sfide e contratti del Clubhouse, 4x per i membri di GTA Plus e rista supplementare. Sconto del 100% su tutte le abilità del MotorSaber Club, sconto del 40% è l'Omnis e GT e uno sconto finale del 30% sul Clubhouse modifiche più upgrade, tutti i business del MotorSaber Club modifiche più upgrade, Power Surge, Chimera, Zombie Chopper, la Curors, Obey Wogen e Cyclone 2. Per questo video giornalmente è tutto, vi invito a lasciare un follow.